Offre una grande varietà di indirizzi umanistici, tecnici e professionali e l'Istituto Cicerone di Sala Consilina che in questo periodo si sta presentando ai ragazzi e alle famiglie alle prese con la scelta della scuola superiore per il prossimo anno scolastico. È stato un successo l'open day di domenica scorsa e il prossimo e in programma domenica prossima 22 gennaio sempre dalle ore 10 alle ore 12 e 30 e poi dalle ore 16 alle ore 19 nei due plessi di via Pisacane e via Matteotti che ospitano i cinque indirizzi ITIS, IPSI, Alicio Classico, CAT, IPSASR. Gli ospiti sono accompagnati in un tour tra aule, laboratori innovativi, biblioteche per conoscere l'offerta didattica e formativa. Simpatiche e interessanti le attività proposte, attività di laboratorio e non solo curate dagli studenti e dai docenti del Cicerone. Si può assistere alla rappresentazione in inglese delle opere di Shakespeare o delle commedie teatrali di Aristofane interpretate dagli studenti del liceo classico come hanno fatto domenica scorsa mentre gli studenti dell'Ipsia mostravano la veniristica microcar elettrica, hanno trasformato una macchina da termica ad elettrica e domenica prossima raccontano come hanno fatto. I ragazzi del CAT invece stupiscono con effetti speciali, con il rilevatore laser 3D, droni per il rilievo e le costruzioni metriche in 3D, telecamere spaziali, software per ricostruzioni virtuali e realtà aumentata. Al professionale per l'agricoltura espongono i prodotti dell'indirizzo agrario, il vino fuoriclasse e l'olio cosilinum. Non mancano le attività di laboratorio al parco tecnologico a cura dei docenti e degli studenti dell'Ipsia e le attività laboratoriali degli studenti che realizzano mood gioielli dell'Ipsia sistema moda. Gli studenti e docenti saranno lì anche domenica prossima, 22 gennaio, a presentare, ognuno nella propria realtà, l'offerta formativa e didattica dei vari indirizzi del Cicerone di Sala Consilina, diretto da Antonella Vairo.